Nel Lazio per la lotta alla sclerosi multipla, l'iniziativa per raccogliere fondi per la ricerca scientifica e per progetti rivolti ai giovani che rappresentano il 50% delle persone colpite da questa malattia molto invalidante. A fronte di una piccola donazione si potrà portare a casa un sacchetto di mele rosse, verdi e gialle. L'appuntamento con AISM è anche domani. La settima edizione di Circo...